Spesso noi ci lamentiamo, dissi, perché pochi sono i giorni buoni e molti quelli tristi, ma abbiamo torto a quel che mi sembra. Se avessimo sempre il cuore aperto e pronto a godere il bene che Dio ogni giorno ci concede, avremmo poi forse sufficiente per sopportare il male quando viene. — Ma noi non siamo padroni del nostro umore, disse la moglie del pastore. Molte volte esso dipende dalla salute. Quando si è sofferente si sta male dovunque. Le diedi ragione, ma aggiunsi. — Ebbene, consideriamo la cosa come una malattia e vediamo se non esistono dei rimedi. — È giusto, disse Carlotta. Credo che molto dipenda da noi a giudicare da me stessa. Quando qualcosa mi turba e minaccia di mettermi di cattivo umore, corro in giardino canticchiando qualche ballabile e tutto passa. — È proprio quello che volevo dire, ripresi. Avviene per l'umore come per la pigrizia, anzi è proprio una specie di pigrizia. Per natura vi siamo molto inclinati, ma se una volta abbiamo la forza di vincerla, il lavoro ci pare facile. Troviamo nell'attività un vero piacere. Federica ascoltava attentamente e il giovane si rivolse a me dicendo che non si è padroni di se stessi e che tantomeno si può comandare ai propri sentimenti. Ma in questo caso, replicai, si tratta di una sensazione spiacevole di cui ciascuno si libererebbe volentieri. E nessuno sa fin dove arrivano le sue forze se non le ha prima sperimentate. Eppure chi è ammalato consulterà certo tutti i medici e con grande rassegnazione prenderà le medicine per più amare, per riacquistare la desiderata salute. Osservai che il nobile vecchio tendeva all'orecchio per prendere parte alla conversazione. Allora alzai la voce e rivolsi a lui il mio discorso. «Si predica contro tanti vizi», dissi, «ma ancora non ho sentito dire che dal pergamo si sia levata la voce contro il cattivo umore». «Questo tocca ai pastori delle città», disse lui. «I contadini non conoscono il cattivo umore. Eppure se io lo facessi non sarebbe male. Potrebbe, se non altro, servire di lezione a mia moglie e al signor sindaco». Tutti risero ed egli pure rise di cuore finché un colpo di tosse lo prese e interruppe per un poco il nostro discorso. Poi il giovane prese la parola. «Voi chiamate il cattivo umore un vizio. Mi sembra che siate eccessivo». «A me non sembra», risposi, «se qualcosa nuoce a noi stessi e agli altri merita senz'altro tale nome. Come se non bastasse il non poterci rendere felici l'un l'altro. Dovremmo anche rapirci il piacere che talvolta il nostro cuore sa procurarsi. «E trovatemi un uomo di cattivo umore che sia così bravo da nasconderlo, da sopportarlo solo, senza turbare la gioia che lo circonda. O piuttosto non deriva la nostra inquietudine da un'intima coscienza della nostra indegnità. Da uno scontento di noi stessi che sempre si collega con l'invidia e con una pazza vanità. «Noi vediamo felici delle persone che non ci debbono la loro felicità e questo non possiamo sopportarlo». Carlotta mi sorrise, vedendo la commozione con la quale parlavo, e una lacrima di Federica mi spense a continuare. «Guai a coloro, dissi, che si servono dell'influenza che hanno su di un cuore per rapirgli le semplici gioie che esso sa procurare a se stesso. Tutti i doni, tutte le premure della terra non compensano un istante di spontaneo piacere, rapitoci dalla gelosa importunità del nostro tiranno». Il mio cuore era gonfio in quel momento, tutti i ricordi del passato si affollavano nell'anima mia e gli occhi mi si riempivano di lacrime. Tutti ogni giorno dovrebbero dirsi «Tu non puoi far altro per i tuoi amici che lasciar loro le gioie che hanno e render più vivo il loro piacere godendone con essi. Infatti potresti tu, se il loro animo fosse tormentato da un'angoscia passione e, oppresso dal dolore, versa loro una goccia di balsamo consolatore». «E quando l'ultima più dolorosa malattia sorprenderà la creatura che tu avrai tormentato nel fiore degli anni e che giacerà in uno stato di compassionevole esaurimento, quando il suo occhio spento sarà rivolto al cielo e il freddo sudore della morte bagnerà la sua pallida fronte, e tu starai presso il letto come un condannato, con l'intimo sentimento di non poter far nulla, nonostante tutto il tuo buon volere. Allora, allora una profonda angoscia ti stringerà, pensando che daresti tutto al mondo per poter infondere nella creatura morente una stilla di forza, una stilla di coraggio». Grazie. Grazie.